L'ufficio del processo è sicuramente una grande innovazione nell'ambito del mondo della giustizia perché prende atto della necessità di andare al di là del concetto di meracancelleria come organo di servizio e di prevedere un supporto globale per il magistrato, quindi consente sicuramente di definire uno standard qualitativo astrettamente maggiore. Il limite dell'ufficio per il processo è che non basta prevedere la presenza di personale a tempo determinato, ma bisogna prevedere delle risorse materiali che allo Stato non ci sono, cioè non c'è dove mettere gli addetti all'ufficio per il processo, hanno un rapporto di lavoro che tra un anno e quattro mesi scadrà, abbiamo perso con alcune innovazioni legislative l'apporto di alcuni soggetti come i tirocinanti che non ci saranno più perché essendo possibile fare il concorso come magistrato ordinario con la sua laurea ormai questo è un filone che si va esaurendo, quindi o si interviene subito per modificare le condizioni e strutturare e stabilizzare l'ufficio per il processo o altrimenti sarà l'ennesima speranza destinata a fallire.